Ben trovati con il consueto appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura gli uomini del commissariato di Adrano, diretto dal vicequestore Paolo Leone, che hanno tratto in arresto un biancavillese di 42 anni, già noto alla polizia per i reati di detenzione illegale e ricettazione di arma comune da sparo, nonché per omessa denuncia e di detenzione di munizioni. L'uomo, infatti, a seguito di perquisizione locale, è stato sorpreso in possesso di un fucile a canne mozze calibro 12, con il calcio ridotto, 15 cartucce per la caccia ed un coltello a serramanico, avente una lunghezza complessiva pari a 32 cm, di cui 14 cm di lama. Le armi e le munizioni, in particolare, erano accuratamente occultate dietro alcune masserizie rispriposte all'interno del garage di pertinenza del 42enne. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione del pubblico ministero. Sul fucile, tra l'altro, verranno eseguite le opportune indagini balistiche. Dopo gli accertamenti di rito e le operazioni del fotosegnalamento eseguite dalla polizia scientifica, l'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida. E continuiamo con la cronaca. I militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri, transitando lungo la strada statale 417, nel comune di Ramacca, hanno notato l'avvicinarsi di una Ford Focus, il cui conducente un palagonese 42enne avrebbe istintivamente tentato di celarsi il viso al loro passaggio. I militari si sono dunque insospettiti ed hanno immediatamente imposto l'alta all'uomo, che a conferma del proprio stato d'agitazione avrebbe loro esclamato «Perché mi stai fermando?». Il controllo effettuato sull'automobile ha subito però chiarito il motivo dell'apprensione dell'uomo, poiché all'interno del bagagliaio e sul sedile posteriore erano riposti oltre 150 kg di mandarini, verosimilmente appena rubati, da uno dei fondi agricoli della zona, di cui ovviamente il conducente non avrebbe saputo indicare la provenienza, limitandosi esclusivamente a dire che gli erano stati regalati. Inoltre, nascosta sotto il sedile anteriore del parseggero, i militari hanno trovato una busta con un coltello a serramanico ed un nutrito quantitativo di utensili, presumibilmente utilizzati, per la forzatura di lucchetti, se serature di sicurezza, nonché per la raccolta degli agrumi. Il soggetto è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria in quanto indiziato per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli o per porto di oggetti atti ad offendere. L'autorità giudiziaria, stante l'impossibilità di riconsegnare i frutti al legittimo proprietario ed accogliendo la proposta dei militari, ha disposto la consegna dei frutti ad enti di beneficenza. Ancora cronaca, il 15 febbraio scorso personale delle volanti della polizia veniva inviato nel quartiere San Berillo dopo una segnalazione alla linea unica di emergenza, in presenza in quel luogo proprio del telefono cellulare che era stato asportato poco prima ad una signora. La vittima riferiva agli agenti operanti che, mentre si trovava al lavoro nella propria farmacia, si era presentato un soggetto extracomunitario, il quale, come già accaduto in passato, chiedeva la vendita di alcuni farmaci senza essere in possesso della prescritta ricetta medica. Alterato per il diniego, opposto gli usciva subito dopo. La farmacista, dopo circa un'ora, si accorgeva dell'assenza del suo cellulare che aveva lasciato sul bancone. Attraverso un'applicazione era riuscita però a localizzarlo nel quartiere di San Berillo. Sul posto la vittima indicava ai poliziotti il soggetto su cui nutriva sospetti, il quale, alla vista della polizia, tentava di nascondere nell'anfratto di un edificio il telefono che veniva riconosciuto dalla vittima del furto e veniva ad essere riconsegnato in sede di formalizzazione della denuncia. L'uomo, che opponeva un'energica resistenza agli operatori, veniva accompagnato in questura, dove si era accertato che, oltre ad annoverare numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, risultava destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato per pericolosità sociale e dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Alla luce di quanto appurato il soggetto veniva indagato per i reati di furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale per la violazione dell'articolo 14 del testo unico riguardante l'immigrazione. Veniva quindi posto a disposizione dell'ufficio immigrazione e nei suoi confronti veniva emesso un ulteriore decreto di espulsione dal territorio nazionale. E adesso passiamo al commissariato di San Cristoforo, che ha coordinato un'attività operativa nell'omonimo quartiere cittadino, che ha visto impegnato una decina di equipaggi di reparti di prevenzione crimine di Catania e Siderno, della polizia amministrativa e dello stesso commissariato. Sono stati effettuati diversi posti di controllo su strada, che hanno consentito di identificare oltre 100 persone e controllare 60 veicoli, sette dei quali sono stati sequestrati per guida senza patente, guida senza casco e per mancanza di assicurazione. A fronte di sanzioni per complessivi 18.025 euro. Nel contesto della stessa attività, gli agenti della squadra di polizia amministrativa hanno chiuso per cinque giorni un chiosco bar di Via Poulé per inosservanza delle norme anti-Covid. Qui sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui il mancato uso della mascherina da parte di un dipendente e la presenza nell'esercizio di una persona priva di Green Pass. Ciò ha comportato sanzioni al titolare dell'esercizio e dal dipendente senza mascherina, oltre che dell'avventore privo della certificazione verde, per 1.200 euro. È stato segnalato alla Prefettura inoltre un giovane tossicodipendente al quale è stata sequestrata una modica quantità di marijuana. Passiamo adesso a Gravina di Catania, dove le attività di controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni impartite per il contenimento della pandemia hanno visto impegnati i militari della compagnia di Gravina in un servizio di controllo volto alla verifica del Green Pass, oltre che all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'attività svolta dal Comando dell'Arma del Comprensorio di Gravina di Catania è stata principalmente indirizzata al coinvolgimento della popolazione all'osservanza delle norme, nonché della relativa consigliata profilassi igienico-sanitaria. In tale contesto sono state controllate oltre 700 persone e sono state sottoposte a verifica complessivamente 72 attività commerciali di vario genere. Nel comune di Mascaluccia, in particolare, sono stati contravvenzionati i titolari di un'agenzia di assicurazioni e di una lavanderia, in quanto entrambi sprovvisti del Green Pass. Passiamo adesso alla visita del presidente della regione Nello Musumeci che si è recato stamane nell'isola di Vulcano per incontrare gli abitanti sul tema dell'emissione di gas velenosi collegati all'attività vulcanica. Il governatore, che era accompagnato dal dirigente generale della protezione civile siciliana, dottor Salvo Cocina, ha partecipato anche ad una riunione con il capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, con il prefetto di Messina, Cosima di Stani, e con il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, con Franco Italiano e Mauro Coltelli dell'INGV e con i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine. Da commissario dello Stato, afferma Musumeci, ho il dovere di tenere informata la popolazione in base ai dati forniti della comunità scientifica. Il rischio c'è, ma è gestibile. Niente allarmismi dunque, ma anche niente sottovalutazioni. L'obiettivo è rendere compatibile la tutela della salute pubblica con la prossima gestione turistica in questo meraviglioso angolo del mondo. Il Presidente della Regione ha lanciato la proposta di chiedere al Ministro del Turismo Gravaia distanziare risorse finanziarie adeguate per aiuti alle attività economiche, oltre alla possibilità di coinvolgere nel Comitato di Salute Pubblica previsto dall'Ordinanza di Protezione Civile rappresentanti di commercianti, artigiani ed agricoltori. E adesso cambiamo argomento. Andiamo a vedere il bollettino settimanale Covid della Regione Siciliana. Nella settimana, dal 7 al 13 febbraio, si osserva un trend in lieve diminuzione rispetto alla precedente. L'incidenza di nuovi casi è pari a 43.072, quindi meno un 13,09%, con un valore accumulativo di 891.08 ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina e Ragusa, oltre che Caltanissetta. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni e tra i 5 e i 5 anni. Per la quinta settimana consecutiva si consolida il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati o con ciclo incompleto. L'epidemia, pur mostrando segnali di arresto, è ancora in una fase delicata e con un significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali, ma con un netto trend in calo rispetto alle nuove ospedalizzazioni. Ancora in calo le prime dosi di vaccino nella settimana dal 9 al 15 febbraio si è registrato infatti un calo del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente. E passiamo adesso alla vicenda riguardante il calcio Catania. Tramite un decreto del 16 febbraio il Tribunale ha disposto la proroga dell'esercizio provvisorio fino al prossimo 7 marzo, ritenendo che le condizioni attuali consentano di esperire un ultimo tentativo di vendita del ramo sportivo della società Calcio Catania. La data della procedura di vendita è prevista per il prossimo 4 marzo. La base d'asta sarà di 500.000 euro. L'orario delle aperture delle buste è previsto per le 16, mentre il termine ultimo per presentare le offerte è per le 12 del giorno 4 marzo. Rispetto al precedente bando non vi sarà più la possibilità di presentare offerte migliorative del 10% dopo alcuni giorni. Inoltre il Catania sarà impegnato nella sfida contro la Virtus Francavilla allo stadio Angelo Massimino sabato prossimo. E adesso passiamo alla serie di Girone I. Continua il cammino vincente della Cireale Calcio che ha battuto per 2-1 la polisportiva Santa Maria di Cilento. Vediamo insieme il servizio di Marco Sciuto. Ennesima prova di forza della squadra di De Sanso che riesce a imporsi anche sul campo della polisportiva Santa Maria. Quarta vittoria consecutiva dei Granate che complice anche il turno di sosta della capolista Gelbison e la battuta d'arresto della Cavese si trovano adesso al secondo posto a soli tre punti dalla vetta. Dopo i primi minuti di studio la polisportiva Santa Maria prova a rendersi pericolosa. Prima con Ovisac marzo tiro sbilenco finiva ampiamente a lato e poi con Marcio con un colpo di tessa sul corner che finiva fuori. Col passare dei minuti però la cereale alza il baricentro e passa con Garretto che va in slalom tra gli avversari e deposita la palla in rete. Forti del vantaggio i Granata insistono e pochi minuti dopo trovano il raddoppio con Piccioni che abili a sfruttare un'indecisione tra difensore e portiere deposita in rete la palla del 2-0. Drammatica però la sua esultanza nella tribunetta dove sono presenti circa 40 supporta e sgranata perché lo costringe a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Finisce il primo tempo con il meritato vantaggio dei Granata per 2-0. Nella ripresa il tecnico di casa striglia i suoi e entrano più interterminati anche a causa di una cereale un po' molle ma producono solo una punizione di Ofusak alta sopra la traversa e un tiro al limite di maggio parato a terra da D'Alterio. Mostrano invece il fianco agli uomini di Desanzio che hanno diverse occasioni per addoppiare. Prima con Garretto che spara addosso a Grieco dopo essere servito da Russo poi con Ricciardo che colpisce di testa in aria ma non riesce ad imprimere forza dopo il cross di Russo e Grieco para e subito dopo con Savanarora che raccoglie un cross sulla sinistra da buona posizione in aria fuori. Alla mezz'ora della ripresa così il tecnico Nicoletti si gioca la carta a Kunzi e la mossa si rileva azzeccata. L'attaccante non ancora al meglio della condizione crea scompiglio e colpisce a 74esimo un palo ad Atterio battuto. I cilentani reclamano anche un rigore subito dopo per una trattenuta di Figliomeni su un marcio. Calcio di rigore che arriva all'81esimo quando Figliomeni blocca un tiro di Kunzi con le mani sul dischetto lo specialista Maggio non sbaglia e fa 1-2. Colpita la Cireale sera le fila e non rischia più di tanto fino alla fine conquistando la quarta vittoria consecutiva che fa davvero sognare i suoi tifosi. Non è ancora stato fatto niente ma questa Cireale si trova lì in alto e non vuol più scendere. E con questo era tutto vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che ci trovate sempre in diretta su Twitch e sul canale 819 del Digitale Terrestre e che potete trovare tutti i nostri approfondimenti sulle pagine Facebook Globus Magazine e Globus Television. Vi auguro buon proseguimento. Grazie a tutti.